Sono Daniela, questa è la carta dell'Angelo Custode di questa settimana. È l'Arcangelo Gabriele che vi dice Hai un'importante missione nella vita nell'ambito della comunicazione e delle arti. Non lasciare che l'incertezza ti blocchi, io ti aiuterò. Questa carta vi dice anche Sono uno dei tuoi angeli custodi e ti sono vicino. Se ti chiedi come mai un Arcangelo è con te, sappi che assisto contemporaneamente molte persone la cui missione di vita si compie nel campo delle arti, delle comunicazioni. E tu sei una di queste. Ti aiuterò ad avere fiducia nelle tue doti naturali e a farle risplendere. Poi aprirò le porte per farti esprimere questi talenti e aiutare gli altri. In cambio, pretendo da te onestà e cooperazione. Parlami delle tue paure, delle tue speranze, della tua confusione, delle tue insicurezze e dei tuoi sogni. Credimi, ti aiuterò. Poi attraversa le porte delle opportunità che apro per te. Sono completamente dalla tua parte. La mia funzione è di essere il tuo maestro. E in quanto tale, ti spronerò lungo il cammino. Sappi che se ti incalzo è solo perché non so che hai bisogno di un piccolo incoraggiamento dall'alto. Questo era il messaggio dell'Arcangelo Gabriele. Vi auguro una buona settimana da Daniera. Ciao!